ora vai su come ha fatto lui SECONDA vai su come ha fatto lui vieni adesso torna indietro si sta andando vai vai si va va è più bello allora indietro un pelo si sei come eri prima o seconda vai si sei di la c'è la pianta che cazzo non frena appoggiati boh c'è la gomma occhi ai vetri però velocissimo devi essere vai via come mai ah ah ok ci sei vai di là io ho la marcia che esce vai vai te la tengo io tutti in volante ok allora ascolta tutto di qua se riesci allora vai su scendiamo giù da questa discesa qua che c'è dietro torna su se riesci a far venire ancora il culo di qua possiamo scendere senza senza far troppo dai tengo io dentro la prima vai via ok dai che va dai 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 che c'è mai che va eh sì siamo già sotto siamo già sotto buona prima credo di no proviamo provi il secondo vai 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 30 seconda eh lo so vado? eh lo so perché c'è più tiro aspetta un attimo adesso la tengo su di gira ancora io ancora in seconda sono bimbo è scappata Secondo Tiravamo Vado? E fa... Molla, molla Cazzo, questo vuol dire Ben compilota Cazzo, cazzo